La foto di Piazza 40 Martiri, immortalata dall'alto al momento dell'accensione dell'albero di Natale più grande del mondo, è a suo modo un'icona che racconta l'invasione pacifica di visitatori giunti a Gubbio per il weekend dell'Immacolata. Difficile parlare di numeri in una situazione fluida dove la sensazione più dei dati ha restituito l'idea di un'affluenza alla pari con il successo dello scorso anno. Qualche numero comunque si può dare, 8000 agli accessi al punto informazione di Piazza 40 Martiri che dava indicazioni e mappe per scoprire le attrazioni dislocate in centro, gestite da Land. Un numero importante che conferma la bontà dell'iniziativa di usare quello spazio contraddistinto dalla ruota panoramica come porta di accesso al centro. Se si considera che lo scorso anno l'Immacolata era un ponte e non un semplice weekend, i numeri sono in aumento rispetto al 2018, altari numeri a quattro cifre per il raduno dei camperisti. Oramai appuntamento canonico del 7-8 dicembre, 800 i camper che hanno aderito alla manifestazione, dislocati nelle aree soste approntate da Comune e Associazione dei camperisti in via del Bottagnone per un totale circa di 2400 persone, stimando una media di 3 per camper. Alla cena organizzata per loro al San Benedetto, 330 i partecipanti, molti dei camperisti, la maggior parte è arrivata dal 6 dicembre per ripartire l'otto, con un impatto dunque sulle presenze importante. Sold out degli alberghi con la soddisfazione sia di host che di iridium, soprattutto in considerazione del fatto che le prenotazioni non si esauriscono all'8 dicembre ma proseguono per tutto il periodo fino all'Epifania. La logistica da questo weekend sperimenterà l'allargamento della navetta anche alla zona est, passando per i parcheggi della Vittorina ed effettuando una fermata Porta Vittoria per favorire l'accesso dei turisti al centro anche da questo ingresso. Dal 26 dicembre al 6 gennaio la navetta sarà presente quasi tutti i giorni.